In questo tutorial vi spiegheremo come inserire un video sui vostri annunci direttamente da T-Plat. Innanzitutto avete bisogno di un account Google a cui accedere, quindi potrete caricare dei video sul vostro canale YouTube. Vai sulla schermata iniziale di Google e in alto a destra clicca sull'icona con i puntini, quindi clicca sull'icona YouTube. Se non hai ancora effettuato l'accesso al tuo account Google, clicca sul tasto accedi in alto a destra, quindi inserisci le credenziali del tuo account Google. Digita l'email, clicca avanti, digita la password e clicca avanti. Verrai reindirizzato sulla pagina principale di YouTube, quindi non ti resta che accedere al tuo canale. In alto a destra troverai alcuni tasti, uno molto importante per caricare direttamente il tuo video, ma prima di questo andiamo direttamente sulla schermata del tuo canale. Clicca sull'icona in alto a destra e clicca sul tuo canale. Adesso stiamo vedendo il canale ufficiale del gruppo Toscano, su quale abbiamo caricato tutti i video che vi abbiamo inviato recentemente. Vai di nuovo in alto a destra con il cursore e clicca su YouTube Studio. Questa è una sezione che ti permette di lavorare su parecchi dettagli dei tuoi video, ma per quello che servirà a noi sarà sufficiente cliccare in alto a destra sul tasto crea, quindi carica video. Qui potrai decidere se selezionare un file cliccando su seleziona file oppure se trascinare direttamente il file sulla schermata bianca. A questo punto scrivi un titolo utilizzando il numero di riferimento dell'annuncio dell'immobile che vuoi caricare. Nella descrizione puoi utilizzare la stessa descrizione che ho utilizzato sul nostro portale, quindi fai copia e incolla e inseriscila nello spazio bianco. Come puoi vedere a destra in azzurro è già presente il link del tuo video. Prima di andare avanti assicurati di aver cliccato su No, non è destinato ai bambini, quindi clicca avanti. Nella seconda schermata puoi cliccare nuovamente avanti. Assicurati che la voce pubblica sia selezionata, in questo modo il tuo video sarà visibile a tutti. A questo punto non ti resterà che cliccare sul tasto pubblica. Una volta terminata l'elaborazione del video, il tuo video sarà visibile sul tuo canale. YouTube ti permetterà di copiare il link del video appena caricato. Ora vai alla sezione Immobile di T-Platt e clicca su Foto, Video, Virtual Tour. Clicca su Menù a tendina e seleziona l'immobile del quale vuoi caricare il video. Clicca sulla finestra Video e incolla il link che hai copiato da YouTube. Clicca su Salva video YouTube e il tuo video verrà caricato automaticamente. A questo punto, visitando la pagina dell'annuncio in questione, troverai il video che hai appena caricato. Al prossimo episodio